Ciao a tutti, sono Valeria e vengo da Bari. Sono una studentessa del primo anno della facoltà di medicina qui a Pilsen, alla Church University. Cosa ho provato prima di partire? Ovviamente ero molto spaventata, però la passione per la medicina mi ha spinta a superare questa paura e a superare anche il dolore e la nostalgia che avrei provato una volta qui. Ovviamente è stato difficile lasciare i miei cari, ma non mi pento assolutamente della scelta. Ciao, sono Claudia, vengo anch'io da Bari. Per noi italiani è molto semplice raggiungere Pilsen. Ci sono diversi voli diretti sia da Bari che da Napoli e in meno di un'ora si raggiunge Praga. Da Praga poi si prende un pullman, si arriva a Zlici, nella stazione principale e da lì c'è un pullman diretto che dura un'ora per Pilsen. Quindi sia per noi per tornare a casa, ma anche per i nostri cari, per farli venire qui è molto semplice, molto comodo. Ciao, sono Eliana e sono una studentessa alla Charles come Valeria e Claudia. Studio medicina anch'io qui. Se vi ponete la domanda su cosa trovare qui da mangiare è molto semplice perché i supermercati sono molto forniti di tutti i prodotti. Io sono ad esempio intollerante al glutine, ma trovo qui molte scelte, soprattutto in ristoranti italiani con cuochi veri italiani che ti sanno cucinare la pizza, sia normale che senza glutine, stessa cosa vale anche per la pasta. Quindi non esitate a venire qui, troverete diverse opportunità anche per quanto riguarda il cibo.